Io ho cominciato a scrivere quando Elisei Franco, l'ex direttore del Messaggero, mi ha chiamato un giorno per dire perché non facciamo una piccola rubrica sulla Pesola Vecchia. Mi ha incuriosito e ho cominciato. È una storia lunga che è durata più di dieci anni. Nel tempo poi quando il Messaggero è chiuso, ho pensato che tutto quello che avevo scritto, che era una bella raccolta di fatti, di storie, di personaggi pesaresi, non poteva rimanere ad ammuffire nelle scansie delle biblioteche come articolo di giornale. Allora ho pensato di fare una raccolta. La prima raccolta dei primi 250 articoli l'ho fatta nel 2009 con il titolo La Vecchia Pesolo. Ma poi mi rimanevano altri cinque anni che mi dispiaceva perdere questa occasione. Allora ho deciso di farne uno nuovo. Questo nuovo che ho fatto sono racconti che ho dovuto intestare a far metti di storie per non fare confusione con quell'altro, però sono curiosità che a chi piace la storia di Pesolo sono interessanti. Ci sono storie di, come posso dire, di fatti avvenuti negli anni, insomma, la carboneria, le prime rivoluzioni sociali, gli attentati al Papa. Cioè, sempre fatto qui nell'ambito nostro pesarese. E devo dire la verità che mi sono divertito. E mi dispiace anche di dover smettermi. Io ormai comincio ad avere una certa età per cui, insomma, è bene lasciare perdere. Chi avrà occasione di leggere questi libri, questi due libri, vedrà che ogni pagina ha un racconto sintetico perché si è zippato in quanto nel gergo giornalistico bisogna scrivere poco e dire molto. Chi li legge vedrà che potrà rivivere la storia di quell'epoca e vedere anche, per esempio, l'epoca fascista. Grandi manifestazioni, grandi opere pubbliche di cui alcune fatte e alcune no. Però tutto questo fa parte della storia pesarese.